Questo giovedì 8 agosto a Madrid, la Commissione sul disastro ferroviario di Santiago de Compostela si ferma per un minuto a due settimane dell'incidente costato la vita a 79 persone. Questo nel giorno in cui dinanzi al Parlamento spagnolo si sono presentati il presidente delle infrastrutture ferroviarie, Gonzalo Ferre, e delle ferrovie statali Renfe, Julio Gomez-Pomar. Un'audizione che ha lasciato non pochi stupefatti. Ferre ha affermato che il tratto dove è avvenuto l'incidente era stato pianificato per l'alta velocità, ma che per ragione di budget, nell'aprile 2011 la linea era stata declassata a convenzionale, un declassamento autorizzato dall'allora ministro delle infrastrutture, José Blanco. Questo avrebbe comportato tutta una serie di mancanze, come il sistema di frenaggio, che non era quello per l'alta velocità e che sarebbe entrato in azione solo se il treno fosse andato ad oltre 200 km all'ora.